quando sei nel dolore tutti guardano ma pochi vedono e tra quelli che vedono rari sono coloro che si avvicinano davvero non so dire perché questo accade dovrebbe essere un istinto naturale avvicinarsi ed aiutare ed invece accade che le lacrime vengano assorbite dal terreno che l'ansia travolga il tempo e la vita capita di tremare da solo capita di non avere un fazzoletto ed asciugarsi con il palmo della propria mano l'indifferenza al dolore non ha giustificazione non esiste motivo valido non esiste scusante per chi vede un dolore e non aiuti il silenzio a farlo tacere riflettiamo siamo a questo mondo per un tempo limitato quali sono le cose che contano